Ciao a tutti, sono Omero Badon, consigliere del Movimento 5 Stelle Saonara. Il Movimento 5 Stelle Saonara è nato alla fine del 2011 e alle amministrative di maggio 2012 siamo arrivati secondi, anche se per pochi voti, e abbiamo piazzato un consigliere. Abbiamo presentato molte emozioni, alcune più fortunate, come la videoregistrazione del Consiglio Comunale che riteniamo molto importante perché mette in condizione anche i cittadini che non partecipano al Consiglio Comunale di vedersi il consiglio da casa. Abbiamo ottenuto l'installazione delle casette dell'acqua e il wifi gratuito in vari punti del paese. Altre emozioni non sono andate a buon fine, come il decoro urbano, i rifiuti tipo Ponte delle Alpi, osservazioni sul PAT che riguarda il territorio locale e delle incentivi per lo smaltimento dell'Ethermit. Abbiamo altre emozioni in fase di discussione, come l'OGM e la qualità dell'aria. Abbiamo chiesto la conferenza dei servizi per l'idrovia Pado a Venezia. Controlliamo le delibere di giunta e le determini, analizziamo per benino le spese che riteniamo poco chiare e abbiamo fatto addirittura degli esposti alla Corte dei Conti e al Prefetto. Vi preghiamo di seguire inoltre il nostro blog Movimento 5 Stelle Saunare che lo teniamo sempre aggiornato per informare i cittadini perché un cittadino informato è un cittadino che potrebbe votare Movimento 5 Stelle. Grazie a tutti.